Ciao ragazzi, questo non sarà un video ma un annuncio Sì esatto, io volevo mandare un annuncio perché Quando arriveremo ai 50 iscritti farò uno speciale Mezz'ora di Brawl Stars O di altri giochi, non lo so Quindi ragazzi speriamo di arrivare ai 50 iscritti per fare uno speciale Iscrivetevi al canale, mi raccomando Ci mancano ancora solo due iscritti per fare l'episodio speciale Ok? Ciao! Volevo mandare solo questo Buon divertimento e buona giornata Ciao!